Ciao ragazzi oggi vi parlo di un business che ho iniziato giusto due mesi fa che si chiama CryptoFuture CryptoFuture è una piattaforma di cui si ne parla abbastanza in rete e volevo condividere con voi quali sono le mie esperienze, quali sono i miei profitti e se si tratta di uno scam oppure si tratta della miglior opportunità della vostra vita che vi farà finalmente diventare ricchi o meno ma prima di andare avanti e di svelarvi queste informazioni mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video perché vi piacerà di sicuro e attivate la campana LED notifiche così non vi perdete i miei prossimi video aggiornamenti e buona visione Ed eccoci finalmente che parliamo di CryptoFuture andremo a vedere anche due siti importanti che ci fanno chiarezza su questa situazione Prima di andare avanti volevo ovviamente ricordarvi che io non sono un consulente quindi non dovete prendere per idea di investimento quello che vi sto dicendo ma per pura informazione, quello che è la mia di esperienza che volevo condividere con voi quindi non fate l'investimento soltanto perché vedete che a me sta andando bene se poi avete dei dubbi scrivetemi ancora qua sotto oppure iscrivetevi al mio gruppo Telegram dedicato proprio a questa piattaforma dove ci possiamo confrontare ma andiamo avanti questa azienda si occupa principalmente di fare trading attraverso il loro bot e attraverso il personale che hanno lì adesso non entriamo in merito e attraverso il mining delle criptovalute e vi garantisce un guadagno che va dall'1 al 3% in media 1,5 ma si possono verificare anche dei casi in cui abbiamo delle entrate di 0,8% sul capitale investito ora come funziona? voi potete andare ad acquistare uno dei pacchetti che adesso vi faccio vedere che vanno da un minimo di 50 dollari fino a un massimo di 99.000 dollari questi sono acquistabili attraverso le criptovalute che sono Bitcoin adesso vi faccio vedere CryptoCoin che è la loro criptovaluta che è uscita da poco tempo o Litecoin oppure Dogecoin ovviamente tutto questo va gestito tramite le criptovalute e se non avete un portafoglio o un wallet ancora vi consiglio di registrarvi su Coinbase oppure su Binance vi lascio il link qua sotto di registrazione Coinbase forse è quello più semplice da fare ora vi faccio vedere come si acquista andiamo su pacchetti e selezioniamo il pacchetto che vogliamo acquistare in questo esempio vi faccio vedere come si fa con quello da 100 dollari ma indifferente facciamo Buy selezioniamo il metodo di pagamento ricordatevi che ci sono 10 dollari di commissioni nell'acquisto io andrò a selezionare Bitcoin fate poi Buy e vi si genera una fattura con l'indicazione dell'importo esatto da inviare in formato Bitcoin e l'indirizzo su cui mandarlo che è questo qua sopra eppure avete un QR code se volete utilizzarlo torniamo su Coinbase vedrete che io ho un importo di 1,59 dollari voi probabilmente ce l'avrete a 0 espresso in euro ma non cambia nulla quindi non posso fare inviaricevi perché è il mio importo troppo basso dovrò fare acquista e vendi quindi anche voi andrete a fare questo perché dobbiamo andare ad acquistare l'importo che ci serve clicchiamo qua sopra andiamo su personalizzato e dobbiamo andare a vedere quanti euro sono i 110 dollari quindi scriviamo 110 sono circa 94 ma noi non possiamo mandare solamente questo importo perché ci sono sia commissioni durante l'acquisto che durante l'invio andremo a mettere sui 105-110 per riuscire a stare dentro questi parametri e sono circa 123 dollari che le commissioni e andremo a scrivere qui l'importo di 105-110 cosa compriamo? Bitcoin come la compriamo? qua c'è la carta se non l'avete ancora aggiunta fate aggiungi un metodo di pagamento tornate indietro e poi fate anteprima acquisto qua ci dice che su 105 euro ci ciullano 4 euro di commissioni e quindi avremo acquistato 197 197 quanti sono? sono circa 118 quindi dovrebbero andare bene poi potrete aumentare se volete stare più tranquilli e qua vedrete aumentare l'importo del vostro portafoglio poi faremo su invia e ricevi e dobbiamo compilare questi dati intanto cambiamo in Bitcoin con questo tasto torniamo sulla fattura di prima di CryptoFuture copiamo l'importo preciso da incollare nell'invio così non ci sbagliamo poi ci chiede dove mandarlo questo è un indirizzo che troviamo sempre nella fattura di prima questa riga qua la copiamo che è una specie di IBAN ma che non è un IBAN ma per farvi capire e una nota aggiuntiva sotto per ricordarvi il futuro e cosa avete fatto CryptoFuture e poi farete su continuo in questo modo avrete acquistato e inviato i soldi su CryptoFuture qua potrete andare su chiudi e se dopo ricaricate la pagina non so adesso il tempo che ci vuole mezz'ora, un'ora o al massimo un giorno vedrete che se andrete su Packages vedrete che avete il pacchetto da 100 dollari attivo sarà di questo colore qui e avrete comunque anche una notifica da parte di Coinbase basta finito ma come funziona l'azienda ci dice che è possibile guadagnare al verificarsi di una delle due condizioni cioè la prima che si verifica finisce il tuo piano poi potrai acquistare quelli successivi ma le condizioni sono o riesci a guadagnare il 300% dell'investimento che hai fatto quindi se io ho investito 1000 perché ho preso il pacchetto di 1000 l'azienda mi garantisce che posso andare a guadagnare fino a un massimo di 3x quindi 3000 come vedete qua per ora ho guadagnato 509 dollari e 91 e sono al 17% del totale per raggiungere 3000 dollari l'altra condizione che si può verificare è che se io comunque non raggiungo i 300% ma passano 200 giorni lavorativi il piano si ritiene scaduto per cui se io riuscissi a ottenere il 300% in 100 giorni il pacchetto finisce se non riesco a ottenerlo passano 199 giorni 200 finito il pacchetto prendo quello che prendo cioè se ho guadagnato 2500 sono 2500 ora vi faccio vedere meglio la schermata delle entrate bisogna andare su financial e statement sono rientrato dai 1000 investiti di 509,91 ho prelevato 475 e ho possibilità di prelevare ancora 34,78 in questa schermata potrete vedere tutte le entrate e uscite che ci sono tipo ieri ho guadagnato un 1,52% che su 1000 sono precisamente 15,20 euro poi ho lo 0,03 due volte che è il profitto che mi viene generato dal fatto che ho invitato due persone che si sono iscritte e attivamente stanno facendo investimento anche loro infatti acquistare il pacchetto non rappresenta l'unico metodo di guadagno in questa piattaforma ma ci sono ovviamente dei bonus che se andrete a chiamare delle persone degli amici chi volete voi andrete a ricevere dei bonus la prossima domanda di sicuro che vi fate è quando è che posso prelevare? cioè devo aspettare per forza i 200 giorni o il raggiungimento di 300% dell'investimento o posso prelevare anche prima fortunatamente si può prelevare prima cioè quando all'arrivo di ogni 50 dollari di guadagno noi abbiamo la possibilità di andare a prelevare vi faccio vedere quanto ho prelevato quindi andiamo sempre su financial e withdraw se si pronuncia così e andiamo a vedere che ho già prelevato tre volte uno da 190, 174 e 110 dollari qua ci sono le condizioni di prelievo che bisogna utilizzare un portafoglio bitcoin si può prelevare da lunedì a venerdì ci vogliono massimo 48 ore dei giorni lavorativi per cui se prelevate mercoledì di solito vi arriva giovedì sera oppure venerdì ma se prelevate venerdì vi arriverà lunedì o martedì massimo e il minimo quantitativo di importo come vi dicevo sono 50 dollari ovviamente più prelevate più commissioni andrete a pagare adesso ve lo leggo perché non me lo ricordo a memoria ve lo leggo direttamente dal gruppo telegram su cui vi invito in cui ci sono tutte le informazioni che ho spiegato tutto quello che vi sto spiegando adesso e per quanto riguarda i prelievi se li andate a fare giornalmente pagherete il 10% ogni settimana pagate 7% se li fate una volta al mese andrete a pagare soltanto il 3% ma come si entra in questa piattaforma? ovviamente per poter entrare bisogna entrare tramite un link invito che vi lascio qua sotto e se volete se siete ancora interessati vi iscrivete e fate il vostro investimento ma adesso andiamo a vedere una spiegazione un pochino più profonda di questa piattaforma per vedere se si tratta o meno di scam o qualcos'altro CryptoFut ovviamente è una piattaforma multilevel e voi direte allora è scam bisogna scappare basta eh ponzi tranquilli per me si tratta di una piattaforma che è una piattaforma che ci offre un'opportunità di guadagno e ovviamente queste aziende come CryptoFuture che è nuova ovviamente non ha delle basi solide quindi non si sa se durerà tantissimo o se tra un anno o due morirà ma secondo me è un'opportunità e come tale tendo a gestirla quindi se è appena nata che è partita da credo luglio di quest'anno come diciamo a livello ufficiale minimo un anno o due credo che duri quindi io cerco di investire perché lo vedo come un'opportunità diciamo che non possiamo parlare totalmente di una truffa in quanto questa azienda ha la sede legale registrata legalmente Dubai e opera legalmente a Dubai ora andiamo a vedere due siti importanti abbiamo BeKind MLM che praticamente è un sito che adesso vi apro vi darò ovviamente nella descrizione del video la cosa principale che potrete notare su questo sito è che dice ad esempio che hanno fatto nel loro video promozionale un fotomontaggio del logo di CryptoFuture su un edificio che realmente non appartiene a loro ma qua si tratta di marketing si tratta di fare una pubblicità che può avere un po' di tocco di fantasia per andare ad incrementare la curiosità delle persone e convincerle ovviamente entro certi limiti di andare a far parte di una certa diciamo forma di vendita o di realtà come McDonald's avete visto le pubblicità che fanno poi un'altra cosa è che ci sono nella presentazione del pdf queste due persone che non si sono ancora trovate c'è questo Ryan Wright e Tommy Levi's che se andate a cercare non c'è né su Instagram né su Facebook né su Twitter il fatto che non li troviamo sui social non definisce il fatto che si tratti o meno di una truffa magari queste persone vogliono essere parte dei social avranno dei loro buoni motivi oppure non esistono realmente un altro sito che è quello diciamo delle autorità spagnoli che vi lascio sempre nella descrizione si riferisce alla Commissione Nazionale del mercato del valore e qua potete andare ad aprire un documento o in inglese o in spagnolo ad esempio quello in inglese e praticamente dice che questo sito questa società CryptoFooter.com va a violare o non rispetta l'articolo 140 e 141 a parte A, B, C, D, F praticamente per farla breve definisce che questa azienda non ha i requisiti per operare a livello di investimenti in Spagna però essendo una piattaforma che è internazionale quindi punto com commerciale se una persona vuole investire dei soldi lo può fare a suo rischio e pericolo se poi voi volete andare a leggervi che cos'è il 141 a parte A, B, C, D potete andarlo a leggere ma adesso non voglio allungare troppo il video detto ciò ragazzi dovete investire o non investire in questa piattaforma questo dovete decidere voi io la vedo come un'opportunità perché se ho la possibilità di investire mille e trovarmi mille cinquecento anche duemila duemila cinquecento euro per me va benissimo perché i soldi di solito non li regala nessuno infatti non regalandoli i soldi non andate di matto andando a prendere non so diecimila e metterli qua sopra perché saprete che vi portate a casa trentamila euro dovete fare delle piccole quote delle quote che e la frase classica è non investite quello che non potete permettervi di perdere voi direte è una frase che abbiamo sentito mille volte ma alla fine è la cosa vera perché se voi poi non avete soldi per vivere per mangiare e pagarvi le bollette quella è una vera fregatura perché ovviamente non si sa quanto potrà andare avanti questa piattaforma nonostante rappresenti anche un ecosistema perché c'è un wallet c'è un crypto coin adesso faranno una collaborazione probabilmente con Visa Mastercard c'è scritto qua hanno lanciato appunto l'euro moneta che vogliono anche fare la collaborazione con Binance ma ovviamente come dicevo prima dovete decidere voi l'azienda è totalmente legale Dubai perché Dubai è diciamo un po' più la mente aperta per quanto riguarda gli investimenti le persone vanno lì ad investire perché sanno che hanno più possibilità e più facile più snella la burocrazia piuttosto che aprire un qualcosa in Europa in Italia o in altri posti dove hai mille blocchi niente ragazzi vi ricordo che se volete iscrivervi il link ve lo lascio qua sotto il video il link al gruppo Telegram dedicato sempre a Crypto Future vi lascio ovviamente anche il mio Telegram principale vi lascio il mio vi lascio tutto quanto vi lascio il mio Macbook vi lascio tutto quello che volete anche questo telecomando che probabilmente si sarà visto in tutto il video e il video è finito mi raccomando iscriviti al canale lasciami un like perché è stato un bel video vero e attiva la campana e le notifiche e dimmi qua sotto cosa ne pensi non dire che è uno scam tutto quanto ma se hai una tua idea o un qualcosa di riferimento fammi sapere qua sotto e grazie per aver visto questo video ci vediamo prossimamente ciao ciao